Con la rete segnata contro il Leverkusen, Edin Dzeko ha interrotto un digiuno realizzativo che risaliva al 30 agosto, giorno di Roma Juventus. Ma il contributo in zona goal dato finora dal bomber bosniaco non è quello sperato da Rudi Garcia al momento del suo acquisto, anche perché i numeri dell'attaccante ai tempi del City facciano pensare ad Alton. Nelle 5 stagioni passate a Manchester, Dzeko ha segnato 72 gol con 435 tiri per una percentuale realizzativa del 16,55. Con la Roma il rapporto tra gol e tiri effettuati è invece crollato al 7,69. Ma l'assist alla Totti fornito dal bosniaco per l'iniziale vantaggio contro il Bayern mostra come il numero 9 non sia solo gol. Gol che sembra aver sbloccato Dzeko, proprio la vigia del suo primo derby. La Lazio è avvisata.